Ci è sembrata una buona idea, soprattutto la possibilità di abbinare al microchip, la possibilità appunto di fare un'assicurazione sul corso attraverso l'inserimento di questo microchip c'è falso una cosa interessante da offrire ai nostri clienti, questa credo sia la motivazione principale e poi il fatto di poter avere un monitoraggio sulle biciclette che verranno eventualmente sottratte al legittimo proprietario, mi sembra una cosa civile, corretta e poi credo che tutte le novità debbano essere abbracciate con un minimo di entusiasmo se dietro c'è una proposta intelligente, corretta, quindi credo che la nostra azienda avesse veramente il dovere di partecipare a questa iniziativa. Grazie a tutti!